Una bellissima manifestazione, la manifestazione europea che si fa a Camerino. Se volete in piccolo anche una risposta alla richiesta del Papa di mettere attenzione nell'area del sisma. Fare manifestazioni sportive di questo livello significa richiamare un'attenzione che dice che il nostro territorio è visitabile, che ci si può venire e la manifestazione sportiva diventa un traino di comunicazione sul valore del territorio. Per Camerino che ha confermato il primato fra le università sotto 10.000 studenti la prima in Italia, un bellissimo risultato perché è una cosa a ottenere, una cosa a riconfermarsi specie nelle condizioni complicate che si trova a vivere, corona con questo evento il segno di un grandissimo impegno che l'università ha messo a punto di riferimento del rilancio dell'intero territorio. Noi ospitiamo qui la conferenza stampa proprio perché ne riconosciamo la forza, l'impegno, il valore. Vorremmo che come l'università anche altri si mettessero in cammino per sostenere questa spinta. Grazie.